Ci fa molto piacere e anche ci ha molto emozionato l'applauso con il quale ci ha accolto il pubblico e ci fa anche tanto piacere che il Presidente della Repubblica da tre anni ci inviti ad aprire la parata. C'è emozione ma anche grande responsabilità perché voglio dire noi siamo il front line, ci rapportiamo con cittadini e cittadini e quindi siamo i primi rappresentanti delle istituzioni, quindi una grande responsabilità e senso del dovere. Stasera avremo la consegna delle Costituzioni ai 18 anni, quello che io mi auguro e noi ci auguriamo è che si comprenda appieno il valore della nostra Costituzione, ricordiamo che il 2018 sono anche i 70 anni della nostra Costituzione che è una carta fondamentale per i diritti e i doveri di ciascuno di noi. Auguro a tutti i cittadini e le cittadine di Mirano una buona festa della Repubblica, 2 giugno 2018, un anno particolarmente importante. Mirano è una città attenta alle istituzioni, alla vita democratica, alla partecipazione e io mi auguro che continui ad essere una città così viva e attiva. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici.